Un nuovo appuntamento con l'informazione della Tg oggi in primo piano il funerale di Maria Grazia Martino la 91enne uccisa nella sua abitazione dove è stata ferita anche la sorella dopo l'autopsia oggi l'ultimo saluto per la donna mentre su un altro fronte proseguono le indagini per fare luce sull'intera dinamica e sul presunto assassino una nuova perquisizione ha fatto ritrovare ulteriori elementi agli inquirenti che stanno indagando. Tutti i dettagli nel primo servizio di oggi. Oggi concludiamo a livello religioso questa tragedia che ha colpito tutti quanti noi. Sicuramente la celebrazione della Santa Messa ci aiuta a vivere in maniera diversa, a iniziare a elaborare il lutto sotto gli occhi della fede però il dolore della tragedia resta e rimarrà sempre in tutti quanti noi. Con queste parole Don Paolo Carrano il parroco di San Leonardo a Salerno accolto nella piccola chiesa nel quartiere sconvolto dall'omicidio e dall'assalto in casa Martino la bara con la salma di Maria Grazia la 91enne uccisa lo scorso 9 luglio. Il feretro è stato portato in spalla facendolo muovere proprio dall'abitazione al civico 164 a pochi passi dalla piccola chiesetta dove non era presente la sorella Dele che ancora non si è ripresa dalle ferite avvenute durante l'aggressione per la quale è accusato l'ex badante Giuseppe Buono. L'uomo resta nel carcere di Forni in isolamento e non si esclude anche un suo possibile trasferimento. Intanto domani avrà un nuovo colloquio con il suo legale assunta a mutali passi dopo una perquisizione che ha consentito agli agenti della squadra mobile di Salerno che stanno indagando sull'omicidio per ricostruire l'esatta dinamica ulteriori elementi. Pare infatti che dopo la somma di 3400 euro che l'uomo ha confessato di aver sottratto dall'abitazione dove si trovava anche il fratello allettato delle due donne Isidoro sia stato trovato in casa altro denaro ed è stata ascoltata anche la compagna del presunto assassino. Non si escludono dunque novità nell'inchiesta nei prossimi giorni. Nel frattempo come dicevamo oggi si è svolto l'ultimo saluto a Maria Grazia Martino che come ha ricordato Don Paolo era una persona amabile, conosciuta e amata da tutti. Frequentava ed era conosciuta e stimata da tutti quanti, persona discreta, silenziosa, amabile, ha lasciato un ricordo buono in tutta la comunità, un ricordo che poi adesso ovviamente come ho detto prima è un dolore, un dolore immenso. Parliamo ora di incendi perché questa mattina presso il comando provinciale di Salerno la comandante dei caschi rossi salernitana Rosa De Lizeo ha reso in noto alcuni dettagli del piano con il quale i pompieri salernitani cooperano con la regione Campania per prevenire e spegnere le fiamme sull'intero territorio provinciale. La novità riguarda anche l'arrivo in acqua con le moto d'acqua dei vigili del fuoco. Tutti i dettagli. Per il momento con i 280 incendi registrati dal primo luglio è in perfetta media con l'andamento degli scorsi anni l'emergenza fiamme in provincia di Salerno. Ancora salva la costiera malfitana, l'attenzione dei vigili del fuoco di Salerno si concentra in modo particolare nel Cilento dove sono previsti presidi sia ad Agropoli che a Capaccio sulla fascia costiera. Novità di quest'anno anche un presidio rurale a Roscigno per tutelare l'area del Parco Nazionale del Cilento in costiera a minori oltre che nell'agro nocerino sarnese. Questa mattina la comandante dei vigili del fuoco Rosa De Lizeo in una conferenza stampa ha delineato i tratti salienti del piano che vede i pompieri salernitani cooperare con la regione Campania nell'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi. Alla fine del mese di agosto c'è anche la firma di una convenzione con il Parco dove è previsto l'incremento delle forze in campo con un'ulteriore squadra per la lotta attiva agli incendi boschivi a Salerno, anche una delle unità operative mobili volute dal Ministero dell'Interno. Noi anche quest'anno come gli altri anni ovviamente siamo entrati nello schema operativo dell'AIB e in questo momento in base alla convenzione regionale abbiamo una squadra ad Agropoli che lavora proprio nel dispositivo regionale della regione Campania. Abbiamo un DOS a Vallo e poi abbiamo anche un operatore nella Sopi, nella sala operativa provinciale della regione Campania che abbiamo fortemente voluto sia noi vigili del fuoco che l'ente regione Campania perché è un momento di sinergia, di confronto, di coordinamento fondamentale di tutte le forze ovviamente in campo e di interfaccia in particolare con noi vigili del fuoco. E presto, grazie ad un'intesa con i comuni di Agropoli e Capaccio, i vigili del fuoco saranno anche sulla fascia costiera del Cilento attraverso il soccorso su moto d'acqua. I presidi acquatici non sono altro che delle strutture operative costituite dalle cosiddette PVC che sono le moto d'acqua con due soccorritori acquatici. Le convenzioni prevedono sostanzialmente nel mese di luglio il nostro supporto al comune di Capaccio e quindi la nostra moto d'acqua sta già in verità effettuando il pattugliamento di tutta la costa di Pessum Capaccio dall'inizio di luglio e finirà il 31 luglio. Poi ad agosto invece, dal 6 agosto al 28 inizia una convenzione ad Agropoli della stessa tipologia. Ovviamente il tutto all'interno del piano SAR della Capitaneria di Porto trattandosi ovviamente di emergenza a mare, quindi di intervento a mare. Ed intanto, proprio a proposito del grande lavoro importante svolto dai Vigili del Fuoco sul territorio della provincia di Salerno, vi mostriamo le spettacolari immagini di un'operazione di soccorso che è stata effettuata nel pomeriggio di ieri quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recuperare ad Ascea una signora di circa 30 anni che era caduta e si era infortunata sul sentiero degli innamorati ed è intervenuta la squadra del distaccamento di Vallo della Lucania ma al fine di velocizzare e ottimizzare le operazioni di recupero e trasporto della malcapitata che probabilmente ha rotto un arto inferiore. Come vedete dalle immagini è stato necessario impiegare l'elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Ponte Cagnano con gli elisoccorritori che hanno recuperato la malcapitata e l'hanno trasportata per affidarla ai sanitari presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però in costiera amalfitana dove i carabinieri hanno individuato, grazie soprattutto alle telecamere di videosorveglianza, gli autori di una rissa avvenuta lo scorso 25 giugno, dopo la rissa era stato danneggiato anche il parcheggio del comune di Amalfi, tutti i dettagli nel prossimo servizio. Sono sei in totale le persone individuate, quali responsabili di quanto avvenuto nella notte del 25 giugno ad Amalfi nelle vicinanze di un noto locale di intrattenimento per giovani sono stati tutti denunciati a vario titolo per i reati di rissa, danneggiamento e disturbo delle persone. Secondo la ricostruzione fatta dai militari dell'arma guidati dal comandante Umberto D'Angelo Antonio, grazie all'acquisizione di immagini di videosorveglianza, in modo particolare dell'impianto comunale, ma anche attraverso l'ascolto di testimoni, sono state identificate quattro persone, due di Amalfi e due provenienti da pagani, che hanno partecipato alla lite che ha destato molto clamore nel comune capofila della Divina. Nella circostanza, un gruppo di una decina di giovani, tutti provenienti dall'agronocerino sarnese, alcuni dei quali già noti ai carabinieri, in chiaro stato di ebrezza alcolica, è giunta presso il locale verso l'une e mezza, creando disturbo alla quiete dei numerosi clienti presenti. L'inchiesta ha permesso di ricostruire l'intera serata dei giovani che, e, oltre alla lite in prossimità dell'attività commerciale, si sono anche resi responsabili del danneggiamento di due sbarre poste a chiusura dei parcheggi comunali. Nello specifico, i ragazzi, non pagando il dovuto, hanno sfondato le sbarre dell'area di sosta d'Arsene e d'Arsena 2, con le loro autovetture, fuggendo indisturbati. Entrambi gli autisti sono stati individuati, con le telecamere a circuito chiuso presenti nella zona, grazie alle quali sono stati denunciati. Gli atti ora sono alla valutazione dell'autorità giudiziaria di Salerno per i successivi sviluppi di competenza. Parliamo ancora invece di un'operazione che ha visto impegnate le fiamme gialle a nocera inferiore, coordinate dalla procura guidata da Antonio Centore. Il nucleo di polizia finanziaria ha fatto luce sulla denuncia di un farmacista dell'Agronocerino Sarnese, che in piena emergenza aveva denunciato una truffa sull'acquisto avvenuto attraverso un intermediario della provincia di Salerno di un ingente quantitativo di mascherine chirurgiche, circa 8 milioni, da parte di una società facente riferimento alla Malesia. Era stata versata anche una somma di 144 mila euro come caparra, a fronte però dell'accordo, nonostante molteplici iniziative per ottenere l'adempimento di quanto potuito, la merce non gli era mai stata recapitata nel restituito l'acconto versato. Sulla base di quanto ricostruito dalle fiamme gialle a carico degli indagati, l'amministratore delegato della società malese, il relativo mandatario, il predetto intermediario, si prospetterebbe l'ipotesi di truffa in ordine al contesto di autoriciclaggio, avendo trasferito il denaro illecitamente sottratto alle vittime sui conti correnti di una società di capitale milanese. Il valore complessivo è stato stimato in 150 mila euro, le fiamme gialle hanno così dato vita a un sequestro preventivo dello stesso valore. Questa mattina al Comune di Salerno è stata presentata un'importante novità che riguarda l'Università degli Studi di Salerno, che è la prima in Italia a dotarsi di un corso di laurea in farmacia animale. Vediamo di cosa si tratta. Nasce a Salerno primo in tutta Italia il corso di laurea in farmaceutica e nutraceutica animale. Questa mattina al Comune di Salerno, presente anche il Rettore di Unisa, Vincenzo Loia, la presentazione del corso di durata triennale che ha come obiettivo quello di formare una figura professionale completa, capace di operare in ambiti lavorativi che riguardano la produzione di farmaci veterinari e anche alimenti come mangimi complementari e medicati destinati agli animali. Per l'anno accademico 2022-2023 il corso di laurea sarà d'accesso libero, previa una prova di carattere valutativo articolata in testa a risposta multipla su argomenti di cultura generale e materie scientifiche di base, dalla chimica alla matematica. Ed è stata anche una scelta sicuramente molto anche coraggiosa, perché siamo praticamente in assenza di precedenti. Quindi c'è moltissima innovazione in questa offerta di questo nuovo corso di studi ed è proprio, secondo me, la migliore rappresentazione di quello che bisogna fare per i giovani. Creare nuove opportunità, cogliendo quello che probabilmente non è ancora oggi molto visibile, ma è estremamente promettente. Questo vuol dire fare veramente innovazione e dare opportunità ai giovani. Da cosa nasce l'esigenza di creare questo corso? Dal fatto che non ce ne fossero altri in Italia? Non è solo il fatto che non ce ne fossero, ma c'è tutta una grandissima rivoluzione metodologica, scientifica e tecnologica che ruota proprio intorno all'innovazione della parte farmacologica e anche dei prodotti alimentari per quanto riguarda gli animali. E questo è testimoniato anche da risultati importanti che l'Università di Salerno sta ottenendo nei partenariati estesi, in tutto quello che sono iniziative legate al PNRR, dove questa tematica è molto importante e centrale. È una delle strategie con le quali si cerca di superare la fase che un po' tutto il mondo e anche il settore della formazione ha subito con il Covid. Ha ragione, noi direi che non ci siamo mai fermati, ma non basta questo, non basta l'ordinario. Ecco, diamo un valore anche allo straordinario. Lo straordinario è guardare un po' oltre alla siepe, cercare di creare anche nuovi orizzonti che non esistono, ma che sono importanti per i giovani. Benissimo, grazie. Restiamo nel Salone dei Marmi che ha ospitato la conferenza stampa perché la stessa sala si prepara ad ospitare la prossima seduta del Consiglio Comunale in programma il 26 luglio. Ed in quella occasione, ancora una volta, arrivano le richieste all'amministrazione comunale di attivare lo streaming. In particolare lo ricorda il presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota, che in una nota fa sapere di aver richiesto al Sindaco di disporre la diretta streaming per la seduta del 26 luglio. Una seduta nel quale verranno decisi gli assetti economici ed urbanistici fondamentali per i prossimi anni ed il futuro del Comune Capoluogo. È una mia proposta, ha ricordato Cammarota, che risale al 2010 nell'idea che chi rappresenta il popolo deve darne conto nella massima trasparenza davanti a tutti, ma si è sempre impedito, ribadisce il presidente della Commissione Trasparenza, la diretta televisiva con le motivazioni più improbabili a partire dai costi. Ora però ci sono modalità più semplici, senza alcun costo, con la diretta streaming, ha aggiunto Cammarota, tanto che le commissioni consigliari funzionano da remoto e non si capisce perché il Comune di Salerno debba continuare a tenere nascosti i propri lavori alla città laddove tutti gli altri comuni adottano la diretta streaming. È tempo, conclude il consigliere comunale della nostra libertà, di aggiornarsi alle modernità, ma soprattutto alla trasparenza anche da parte di questo potere. Restiamo al Comune di Salerno dove oggi è stata recepita in seno alla Commissione Politiche Sociali la proposta avanzata dal capogruppo del Partito Socialista Filomeno Di Popolo. Nello specifico si è inteso abbassare la tariffa per la mensa scolastica relativamente alla fascia reddituale che va dai 6.000 ai 9.000 euro Isee a fronte dell'aumento previsto di 1 euro al giorno. Siamo contenti che l'amministrazione comunale abbia recepito i nostri rilievi al bilancio di previsione a detto Filomeno Di Popolo è un primo passo importante per far fronte alle tante difficoltà economiche dei nostri concittadini. Il Partito Socialista continuerà a porre attenzione nelle fasce più deboli soprattutto in questo momento contingente di difficoltà. Sandra Milo sarà la madrina del Salerno Pride. La manifestazione è in programma il prossimo 23 luglio. La presenza dell'attrice è stata confermata questa mattina nella conferenza stampa di presentazione di tutti i dettagli della manifestazione. Sarà Sandra Milo la madrina del Salerno Pride che si terrà il prossimo 23 luglio e avrà come palcoscenico principale Corso Vittorio Emanuele ma anche il mare. I dettagli del programma sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa a Palazzo di Città Salerno alla quale ha partecipato in rappresentanza dell'amministrazione comunale il consigliere Fabio Polverino. Conferma la città dei diritti, siamo nel pieno del Pride Week e devo ringraziare l'Archigay nella persona di Francesco Napoli per le iniziative che ha infuso all'interno del territorio. Iniziative importanti con temi fondamentali. Ancora una volta ieri nell'agenda di governo il PD, il Partito Democratico, ha dimostrato come l'importanza dei diritti degli esseri umani siano fondamentali e siano una priorità per il PD. Il corteo arcobaleno partirà dalla stazione ferroviaria e raggiungerà Piazza Mendola. Il 23 luglio ci sarà anche Sandra Milo, come dicevamo, scelta dall'organizzazione quale madrina del Salerno Pride 2022. Negli altri anni, insomma dopo quei anni di pandemia, ricorniamo in piazza perché era importante ricornare a portare all'attenzione della comunità, della pubblica opinione i temi, gli avanzamenti, i diritti civili e i diritti delle persone LGBT+. Partiamo alle 17.30 da Piazza Ferrovia, da Piazza Vittorio Veneto. Attraverseremo il Corso Vittorio Emanuele, quest'anno credo per la prima volta abbiamo più spazio sul Corso Vittorio Emanuele, il che ci fa piacere perché è il cuore pulsante della città anche simbolicamente importante per la comunità cittadina e provinciale. Poi attraverseremo il lungomare perché voi avete visto lo slogan del Salerno Pride di quest'anno un mare di diritti, un mare di pace. È un modo anche per ribadire il nostro rapporto con questo mare mediterraneo che è un mare di inclusione, che è un mare di incontri e che è anche un mare di pace e che speriamo che lo diventi sempre di più. E poi arriveremo, attraversando fino a Santa Cheresa, arriveremo a Piazza Mengola dove ci sarà poi lo spettacolo finale, il comizio come di consueto, gli ospiti e la Magrina di quest'anno che è San Gramilo e che siamo contenti di ospitare qui a Salerno. Ora spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film, la prima parte della serie interamente dedicata al rapimento e all'assassinio di Aldo Moro. Andiamo, ti divertirai. Te lo prometto. È il momento di dare spazio all'informazione sportiva subito dopo le previsioni del tempo, le ultime novità. subito dopo le previsioni del tempo, le ultime novità. Eureka, la tua estate. Previsioni per domani, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Media. Ed eccoci dunque, come vi anticipavo, con la parte del nostro TG dedicata allo sport, ovviamente in primo piano, la Salernitana che conclude con una vittoria il ritiro in Austria nell'amichevole che si è svolta ieri contro il Vieste e Caracrovia. Riberì e Boteim nel registro dei marcatori, ma a tenere in ansia la compagine Granata e la situazione di Matteo Lovato uscito anzitempo dal campo per una distorsione alla caviglia. La Salernitana si sbarazza in 10 minuti della pratica viecista a Caracrovia. Le reti al terzo minuto e al sesto minuto del primo tempo rispettivamente di Riberì sul calcio di rigore e Boteim al di là poi della partita. Le preoccupazioni in casa Granata sono tutte per Matteo Lovato. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo a metà del primo tempo atterrando malissimo sulla caviglia sinistra dopo un contrasto da calcio d'angolo. Distorsione inevitabile ed anche piuttosto seria visto che il giocatore, in lacrime, ha lasciato il rettangolo di gioco portato a braccia dai fisioterapisti e da Riberì. Inserato il risponso dal club Granata il giocatore ha riportato un forte trauma contusivo e distorsivo alla caviglia sinistra con sospetto interessamento legamentoso. L'attreta si è sottoposto oggi ad ulteriori indagini strumentali presso Villa Stewart a Roma e nel pomeriggio è atteso uno degli esiti. Ci sarà tempo per ricaricare sicuramente le energie necessarie per passare alla seconda fase del ritiro austriaco da Jembach a Fugen, dove Granata si ritroveranno dal 24 al 29 luglio. Confermato nel frattempo il test contro il Grata Sarai il 27 luglio al Tivoli Neustadion di Innsbruck impianto che nel 2008 ospita anche gli europei. Un primo recap di questo precampionato vede ancora in netto miglioramento l'andamento personale di Emil Boinen che sarà uno dei titolarissi della Salernitana 22-23. Commissi a Davide Nicola che gli ha affidato la gestione totale del centrocampo sentendosi anche complice di qualche buona azione offensiva a favore del suo nuovo compagno di squadra oltre che nazionale anche in Granata Eric Botein. Io credo che stiamo facendo bene adesso, stiamo getting better and better every day quindi, sì, io credo che stiamo trainando bene e stiamo facendo bene, stiamo facendo bene prima di tutto, è un mio amico molto buono quindi noi conosciamoci un po' molto tempo e io sono molto felice di avere l'ho qui è un giocatore molto talentoso e un buon striker quindi credo che il livello della squadra molto più grande e io credo che sia molto felice di avere l'ho qui. Sì, ovviamente è il progetto di non essere in l'arco e di combattere ogni gioco e di spazare meglio fútbol e di spazare con più confidence e la forma di fare questo è di avere un migliore start e di prendere più punti e poi prenderemo il gioco per gioco. Sì, è un gioco chiaro per me quindi, sì, ho bisogno di lavorare e di performare in i gioco e spero che il mio tempo sarà presto. Sì, ovviamente, abbiamo una buona relazione e è un buon giocatore quindi, sì, non c'è più di dire. Io voglio avere l'ho più di più e sempre voglio avere l'ho quindi l'ultima settimana abbiamo giocato un altro tipo di fútbol quindi non ho piaciuto l'ho ma spero questa settimana possiamo giocare più di fútbol da l'ho, da l'ho, da l'ho e, sì, io voglio essere involvato in il gioco e giocare le passi per le mie amici e essere controllo in il gioco è il mio obiettivo. Serie A è una buona gialla 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 ma è chiaro che il livello è molto alto Anche il direttore tecnico dei Granata Giulio Migliaccio conferma la volontà di allestire una rosa all'altezza del campionato di massima serie tra operazioni in uscita e colpi in entrata Migliaccio avrà tempo di confrontarsi con il direttore sportivo De Santis che in questi giorni lavorerà alle cremente per costruire il team di Davide Nicola ancora Francesco Di Pasquale Con un Matteo Lovato in fase di controllo la Salernitana manca ancora di 4-5 acquisti qualcosa in più se si pensa a qualche pedina che necessariamente non comporrà la rosa Granata nelle prossime settimane in difesa come dicevamo si aspetta il risponso degli esami medici di Lovato e in caso di drammatico stop il direttore sportivo De Santis dovrà rimettersi alla ricerca di un degno sostituto magari Mauro Perkovic dell'Istra campionato croato o Caleb Ocoli dell'Atalanta giunto in ritiro nella giornata di ieri insieme a Junior Sambia il direttore sportivo non ha proferito parola nel pre e post amichevole contro i polacchi ha parlato invece il direttore tecnico Giulio Migliaccio ti ha confermato che c'è una rosa da migliorare per un Mazzocchi che nicchia ieri formalmente fuori dall'11 titolare in via precauzionale a causa di un risentimento al polpaccio l'obiettivo è sempre in attacco Piontek piace e non poco e con l'erta Berrino ci saranno degli sviluppi già nelle prossime ore Dia e Bonazzoli restano in ombra per il momento a causa dei loro pensieri oltre il ganata Pinamonti resta il sogno tricolore l'obiettivo porta sempre sponda club tedesco dell'erta Berrino potrebbe vedere l'innesto di uno tra Conrad e Goeller entrambi 17 anni con Fiorillo e Mikai in lotta per una maglia da permanenza a centrocampo sfumato Ascasibar che viaggia verso la Cremonese e Ranocchia che vede sempre più il Monza avanza l'ipotesi Djuricic e si abbassano le quotazioni di Simone Bastoni dello Spezia potrebbero salutare Cavion il Cosenza ha chiesto nuove informazioni e Capezzi ipotesi Bari mentre in attacco si cercano pretendenti seri Persimi col Bari che non affonde il colpo e tiene banco sempre la questione legale e non di Mikael impressioni impressioni positive perché è un po' il punto di 15 giorni oggi la chiusura di 15 giorni di lavoro è fatta molto bene al di là della partita del risultato dell'atteggiamento della squadra che comunque è stato positivo oggi c'era un gran caldo bisogna un attimo capire perché in questi amichevoli il rischio più grande è quello degli infortuni purtroppo oggi c'è stato comunque l'infortuno di Lovato e che gli ascertamenti attendiamo comunque novità dai dottori perché siamo appoggiati a un ospedale qui vicino e attendiamo novità è ovvio che siamo consapevoli siamo consapevoli noi c'è un confronto quotidiano con l'allenatore ma soprattutto col presidente da parte mia e di Morgan quindi siamo consapevoli che vogliamo migliorare questa salernità ne stiamo facendo di tutto lavoriamo con grandissima attenzione proprio per provare a sbagliare il meno possibile di conseguenza più on tech di Urici sono degli ottimi giocatori ma ottimi giocatori che abbiamo parlato come ce ne sono davvero tanti in questo periodo che stiamo sondando proprio per evitare di commettere errori o meglio gli errori commetteremo sicuramente ma proveremo a farli quanto più piccolo possibile ma non ci sono segreti ragazzi è vero dobbiamo fare tante uscite dobbiamo fare tante uscite ma non siamo preoccupati più di tanto perché ripeto il mercato adesso inizia ad entrare nel vivo quando iniziano le prime amichevoli quando iniziano le prime partite ufficiali è lì che entra purtroppo è un mercato molto lungo ma ripeto non siamo preoccupati per quanto riguarda il mercato in uscita perché abbiamo dei buoni giocatori dentro la nostra rossa quindi non credo che faremo fatica a sistemarli mentre per Mazzocchi è ovvio è risaputo che ha degli interessi ma al tempo stesso ha un contratto in essere con noi è un contratto di tre anni c'è grande apertura e disponibilità da parte della Salernitana nell'andare avanti con un giocatore che oggi è nostro e riteniamo importante quindi al momento a noi non è arrivata nessuna offerta parliamo con il ragazzo e il suo agente quotidianamente siamo sereni ecco è un qualcosa che si è creato ma da parte nostra ripeto il ragazzo ha tre anni di contratto siamo tranquilli ma ripeto proveremo ad accontentare il ragazzo ma anche il ragazzo ecco deve rispettare un contratto in essere quindi al momento andiamo avanti ma intanto servono i giocatori forti giocatori buoni perché è proprio la storia i numeri lo dicono l'anno scorso la Salernitana ha fatto un miracolo calcistico e grazie perché grazie all'anno scorso al lavoro che si è fatto qui tutto il mondo Salernitana tifosi voi giornalisti tutti si è fatto un miracolo però c'è da essere molto obiettivi ci si è salvati con 31 punti che nella storia del calcio è un qualcosa di impossibile per giù difesa per giù l'attacco quindi va migliorata questa squadra siamo consapevoli noi ci stiamo impegnando nel completarlo il primo possibile è ovvio però senza quell'ansia di doverlo fare subito perché comunque sappiamo bene che nella seconda parte ecco del mercato e parlo del mese di agosto ci potrebbero nascere tante opportunità chiudiamo con una notizia che riguarda il basket Langri pallacanestro ha reso noto l'ingaggio dell'atleta Stefano Rubinetti guardia classe 98 esterno di origine e capitolina ha disputato i campionati giovanili con la casacca dell'Euro Basket Roma e con la Virtus Roma compagine con la quale ha avuto anche modo di esordire in A1 per il nuovo acquisto dei Condor una stagione di tutto rispetto con 14,3 punti di media in regular season e un alt di 32 contro San Nilo Grutta Ferrata ed è tutto termina così il nostro appuntamento con l'informazione a me non resta che ringraziarvi per averci seguito arrivederci vuoi rivedere questo problema? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti